giornata sul burano conclusa presa una trotta pazzesca vi dico subito che ho preso un pesce pazzesco pesce pazzesco una fario stu bellissima bellissima fario trotta stupenda però tutto lì oggi ho preso praticamente un pesce condizioni del torrente burano indefinibili non saprei cosa aggiungere non vedete niente perché io gli occhiali ma ce ne sono tre qua mica da ridere che lavoro guardate che pesce forza forza bella se un po rincoglionita l'acqua è fredda è l'acqua è fredda e ci sei alla prossima l'acqua è fredda e ci sei alla prossima s...... l'acqua è fredda e ci sei alla prossima